Inchiesta oltre a Parla Giletti alla Rai, il caccio non ha risposto ad appello di Agnelli, se la sono presa solo con la Juventus senza indagare altre curve. Ci sono magistrati, un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Attenzione perché anche la Rai finalmente parla di quello che da qualche settimana stiamo portando avanti, cioè l'argomento per eccellenza, quello che dovrebbe essere sulle prime pagine di tutti i giornali, anche se sappiamo non essere così importanti come il melograno oppure le batterie per le macchine elettriche. È vero, cara Gazzetta dello Sport che ci informa su tutto tranne però su quello che sta succedendo proprio a città laggiù. Perché ci sono di mezzo calciatori, ci sono di mezzo presidenti, vicepresidenti, addirittura c'è un politico indagato per quel che riguarda i contatti con gli infiltrati dell'Andrangheta che facevano affari anche grazie all'appoggio degli addetti ai lavori della squadra di città laggiù che fornivano biglietti e assistenza 24 ore su 24. Questo è venuto fuori dalle deposizioni sia di Zanetti che di Inzaghi ma giustamente i magistrati, ed ecco che qua torniamo al discorso e al ragionamento di Giletti che adesso andiamo a leggere, hanno lavorato un po' a senso unico, diciamo a intermittenza. Passatemi un pochettino la parola. Come sempre vi invito a mettere un bel like per supportare questo video e a condividere più in un posto. Questa è una vittoria nostra perché pensavate che nessuno ne avrebbe parlato, sinceramente pure io non pensavo che si sarebbero spinti fino a Rai 2 a fare addirittura un report con tanto di immagini, con tanto di nomi, con tanto di intercettazione che vi invito ad andare a vedere, ragazzi. E poi le parole di Giletti che non è tanto simpatico a noi altri perché ci ricordiamo benissimo la sceneggiata del Kiwi e del Cotonfioc all'epoca del Cosidi. Però qui si parla di calcio. È effettivamente stato l'unico che è riuscito a tirare fuori la verità. Quando fu per la Juventus si fece una guerra direttamente contro la società perché lì non c'era il sistema che colpiva anche le altre curve. Lì c'era la Juventus da colpire e il sistema sapeva benissimo che è quello il percorso giusto da fare. Mentre intanto nelle altre curve cresceva e si radicava la malavita. Ma di questo non se ne doveva parlare se non fosse venuto lo spiacevole evento, molto probabilmente. Ma andiamo a leggere le parole di Giletti perché direttamente lancia un sasso enorme sulla capoccia di Don Beppino che sono due o tre settimane che non sentiamo più nominare. Perché quello che ci va a dire, noi già lo conosciamo, ma è incredibile sentirlo anche in televisione. Visto che Criscitiello ci teneva a dire ragazzi noi qua dobbiamo portare rispetto all'allenatore perché di certe cose non si deve parlare. E ricordiamo che si deve vergognare assolutamente Spalletti per quello che ha detto. Adesso andiamo a leggere le parole di Giletti prima però. Vuoi acquistare la nuova maglia della tua squadra del cuore? Se sì, calcioking.com può fare al caso tuo. Qui troverai non solo le fantastiche maglie del 2024-2025 ma anche le tute da calcio e le maglie retro. E abbigliamento per bambino. I prezzi come potete vedere sono veramente vantaggiosi e la qualità è incredibile. Io qua ne ho una della Juventus e una qualità davvero superiore. calcioking.com troverete pure il loro Instagram per poterli contattare e poter avere nuove informazioni. E con il codice coupon Peter riceverete un ulteriore sconto del 10%. Mi raccomando, usufruite dell'offerta. E con una spesa superiore ai 79 euro avrete anche la spedizione gratuita. Il sito fa tante offerte e io vi invito ad andarlo a vedere. Ragazzi, approfittate dell'offerta calcioking.com E andiamo a leggere le parole di Massimo Giletti perché sono importanti. Massimo Giletti nel corso della sua trasmissione su Rai 2, lo stato delle cose, ha parlato dell'inchiesta sulle curve milanesi. Attenzione perché anche in questo caso si parla delle curve milanesi perché c'è di mezzo anche il Milan. Ha ascoltato il capitano del Milan però non viene cagato Barella che si è visto fare foto di true e chiamare dentro lo stadio i personaggi in questione per venire a esultare e a festeggiare la vittoria. Però in qualche modo dovevamo tirarlo dentro il Milan. E abbiamo deciso di farlo così. Ci abbiamo provato anche con la Juventus con uno dei vecchi ultra dei viking della Juventus ma non ha attecchito, non c'è cagato nessuno. Allora continuiamo a portarci avanti il Milan perché col Milan l'esca sta funzionando. Funzionicchia. Diciamo che funzionicchia perché tanti milanisti hanno già fatto sentire il proprio disappunto. Però i giornali ci vanno ancora a nozze con questa cosa. Dobbiamo un pochettino annacquare il brodo. Non c'è la Juve di mezzo. Non dobbiamo per forza sparare merda e andare a fare intercettazione fasulla. Anzi cerchiamo di nascondere anche quelle vere che ci sono. E se qualcuno va a finire in passo ai giornali noi cerchiamo di renderla un pochettino più leggera. Dicendo che alla fine non so ragazzi, non c'è niente da fare. TuttoJuve.com ha utilizzato le sue parole. Andrea Agnelli quando è stato chiamato a rispondere, ha detto lui, dice che è ora che il calcio, alla luce di tutto quello che è successo, e di tutto quello che stiamo vedendo, dia una risposta. Perché ai tempi di Agnelli, diciamo che la magistratura e anche la giustizia sportiva, ha cercato di fare subito il suo lavoro. E invece la mia sensazione, dice Giletti, è che se la siano presa solo con la Juventus, non andando ad indagare sulle altre curve, su quello che succedeva, sono convinto, dice lui, insiste, che se non ci fosse stata la morte di Bellocco, probabilmente tutta questa storia stava ancora sotto un tappeto, non avrebbe parlato nessuno e si sarebbe andato avanti così. Ed effettivamente il magistrato che adesso si trova sotto scorta, lo ha detto, noi sapevamo che c'era dell'osco, non pensavamo che si sarebbe arrivato fino al morto, quindi sapevamo tutto, ci facevamo tranquillamente, non pensavamo che questi qua arrivavano fino ad ammazzarsi, perché andava tutto bene, cioè va bene, adesso ragazzi, che vuoi che sia, far pagare a un tifoso, che poi l'interista è il primo che si dovrebbe lamentare, invece è il primo demente che va a cercare altri, non tutti naturalmente, ma un buon 90%, va a cercare, ma vedi, però voi pure, però adesso vedi, è la prescrizione per le plusvalenze, si parla del 90% della possibilità che la Juventus venga prescritta per qualcosa che riguarda le plusvalenze, per le plusvalenze la Juventus ha già pagato, che vuoi arrestare Agnelli, e cosa ne paga la Juventus? Al tifoso cosa interessa se arrestano Agnelli? Invece nel vostro caso vi rubavano i soldi dalla tasca, perché un biglietto che costa 80 euro, pagarlo 800 euro, come avete sentito, se avete visto la puntata di Giletti, se non l'avete vista andatevela a vedere, è un furto totale, e voi dovreste essere i primi a lamentarvi invece? Eh no, eh no, perché la mia squadra ti ha trombato la moglie, ma che se ne frega, c'è la maglia dell'Inter? Sì, ero io a posto, ero io, ero io, andiamo avanti. Sono convinto, come dice lui, non sarebbe successo niente se non ci fosse stato il morto. Ci sono magistrati che vanno in una certa direzione, dice lui, non so a chi si riferisce, però, e altri che sottovalutano il problema. Poi vi andate a vedere tutto, e vedete le testimonianze che ha portato, e vedete anche i filmati che porta, sentirete le intercettazioni. Il problema qua qual è? Il problema è che non possono insabbiare tutto questo. È arrivato fino in televisione, perché fino a quando non se ne parla, o se ne parla dopo che ormai sono prese le decisioni. Ricordiamo il caso del passaporto falso di Recoba, un'ammenda per la società, una multina per gli addetti ai lavori e per il calciatore, vai avanti. Il campionato lo giochi con un giocatore che non era comunitario, documenti falsi, giochi tutto il campionato. L'importante è ricordare che nel 1997 la Juventus ha rubato il campionato all'Inter per quello scontro tra Ronaldo e Iuliano. Dimenticandosi però che in quel campionato ha giocato uno, per il quale l'Inter doveva pagare 3-0 a tavolino ogni partita che ha giocato Recoba, è un punto in meno in classifica per ogni partita che ha giocato Recoba. e quindi doveva andare in Serie B. Ma in quel caso ci fu uno che non se la sentì. Non se la sentì e non me la sento, dice. Non me la sento. Dopo un po' non me la sento, come diceva Ciccioli. Dopo un po' non me la sento. L'hai capita? O te la devo spiegare. Grazie. Grazie.